Cari amici, un saluto da Nat Russo. Oggi vorrei parlarvi di conflitti nel mondo. Quando parliamo di guerre in corso, pensiamo subito all'Ucraina. Ma essa è stata solo uno dei conflitti che si sono intensificati nel 2022. Complessivamente, la violenza politica è aumentata del 27% a livello globale lo scorso anno e le persone coinvolte sono 1 miliardo e 700 milioni. Un'ampia gamma di attori ha contribuito all'impennata della violenza. Oltre alle tradizionali forze statali regolari, a differenza del passato, quando le guerre venivano combattute tra stati, nei conflitti oggi assistiamo alla escalation delle milizie non regolari, ma sostenute lo stesso dai governi. Assistiamo al proliferare dei gruppi armati non statali, delle organizzazioni criminali e dei gruppi di mercenari che spesso operano con la promessa di impunità o di rimunerazione economica. Questi nuovi agenti di conflitto condividono un desiderio comune di massimizzare il potere, sia a livello globale che locale. La proliferazione di essi vanifica ogni sforzo di pace e rappresenta un fallimento nel promuovere risoluzioni pacifiche per i conflitti più gravi del mondo o per la creazione di strutture di governo che possono alimentare stabilità e prosperità. Cominciamo a parlare di guerre dall'Europa. Nell'Ucraina una escalation incombente, mentre la guerra entra nel suo secondo anno. Le previsioni iniziali del governo russo, secondo cui le sue truppe avrebbero preso Kiev entro pochi giorni, sono state completamente disattese. Le forze ucraine hanno tenuto a bada l'avanzata russa e lanciato importanti contraffensive nel sud-est del paese. Cosa cambia adesso? Cambia il fatto che i due esercici si sono ora preparati per un conflitto prolungato, che minaccia di richiedere un tributo civile ancora più elevato e di intensificarsi ulteriormente oltre i confini dell'Ucraina. L'invasione dell'Ucraina ha gettato un'ombra di incertezza sulla sicurezza globale. Il presidente russo Vladimir Putin ha sfidato le aspettative di molti e ha attaccato un paese sovrano nei suoi confini dopo anni di rafforzamento militare. Fino ad oggi le forze ucraine, sostenute dall'aiuto politico e militare occidentale, hanno impedito alle truppe russe di catturare Kiev e di prendere il controllo dell'intero paese. Tuttavia le azioni di Mosca, che includono anche attentati indiscriminati, esecuzioni sommarie, sparizioni forzate, tutte azioni che probabilmente equivalgono a crimini di guerra, hanno ucciso decine di migliaia di persone e devastato tutte le infrastrutture del paese. Milioni di persone sono state costrette a fuggire dall'Ucraina e le conseguenze della guerra si sono estese ben oltre l'Europa, provocando cambiamenti drammatici in altre aree di crisi in tutto il mondo, specialmente nell'Africa e nel Medio Oriente. Un altro focolaio di disordini è costituito dalle regioni kurde. Un focolaio di violente tensioni ad alto rischio di escalation. La Turchia ha intensificato le operazioni militari contro i militanti kurdi nel nord dell'Iraq e in Siria, mentre l'Iran, devastato dai disordini, ha lanciato attacchi anche contro i gruppi armati dell'opposizione kurda con sede in Iraq. Il presidente turco Erdogan potrebbe sfruttare la sua influenza per lanciare una offensiva militare nel nord della Siria. Proseguiamo con le manifestazioni antigovernative dell'Iran, che è scosso da manifestazioni di massa innescate dalla morte nel settembre del 2022 di Masha Amini per presunta violazione del codice di abbigliamento della Hijab. Le proteste però si sono espanse verso un'ampia gamba di gravi rimostranze nei confronti del regime, dalla tutela per i diritti civili, politici e umani e addirittura giuggenzo alla richiesta della fine della Repubblica Islamica. Passiamo adesso allo Yemen, dove vi è una traiettora incerta tra il crollo della tegua militare e la ripresa dei negoziati in corso. La tegua ha fatto cessare le ostilità, sono ripresi i negoziati tra gli Uti e l'Arabia Saudita. Nei primi due mesi del 2023 attacchi di droni che si sospetta siano di provenienza statunitense hanno ucciso due alti dirigenti di Al-Qaeda nella penisola arabica, nel governorato di Marib, nello Yemen e riaprendo di fatto la situazione di crollo della tregua. Passiamo adesso al Caucaso meridionale, dove sporadiche epidemie di violenza si manifestano in tutta la regione. Nel Caucaso meridionale vi è una minaccia di sporadiche epidemie di violenza in tutta la regione, poiché la guerra in Ucraina ha avuto ripercussioni. L'Armenia, che è sostenuta dalla Russia, che lotta contro l'Arzebagian, che è sostenuto dalla Turchia, è in conflitto sul territorio conteso del Nagorno-Karabakh. I colloqui di pace non sono riusciti a ripristinare la stabilità e il rischio di una violenta escalation del conflitto è sempre presente. In Asia centrali ci sono dei focolai intermittenti di disordini. Kazakistan, Tajikistan e Uzbekistan hanno dovuto far fronte a conflitti interni nel corso dell'ultimo anno. Questi governi guardano alla Cina per il sostegno politico e finanziario. Non hanno sostenuto l'intervento della Russia, poiché temono l'espansionismo russo sui territori asiatici dell'ex Unione Sovietica. In Myanmar continua l'opposizione alla Giunta, con crescenti attacchi ai civili da parte dei militari. La resistenza al governo militare Myanmar è in atto con la Giunta che ha fatto ricorso a livelli crescenti di violenza contro i civili. La repressione militare ha contribuito a rafforzare la coesione di gruppi di resistenza che hanno annunciato l'intenzione di continuare una lotta sempre più dura, mentre i militari cercano di organizzare elezioni fittizie nel 2023. Ma la resistenza alla Giunta al potere probabilmente si intensificherà. In Africa, nel Sahel, la transizione geopolitica è al centro di una crisi sempre più grave. Le truppe locali e le truppe straniere, specialmente francesi, che sono stanziate nella zona non sono riuscite a sconfiggere l'ascesa del locale Stato islamico, che è dominante nella regione dell'Ibtaco-Gurma, cioè l'area di confine tra tre stati. Intanto la Russia sta cercando di ampliare la sua influenza politica e militare nel Sahel attraverso l'uso di mercenari della compagnia militare privata russa Wagner Group, che operano in Mali e nei vicini Burghina Faso e Niger, e mirano a sostituire gli istruttori francesi con agenti russi. La Nigeria è andata alle urne a febbraio e ha confermato il presidente a mandato limitato Muhammadu Buari. La corsa al voto però è stata contrassegnata da una diffusa violenza elettorale, inclusi attacchi agli uffici elettorali, alle personali, ai candidati e ai sostenitori dei partiti politici. Questa violenza avviene sullo sfondo di molteplici crisi di sicurezza che minacciano le comunità locali nel nord e nel sud del paese. Nel loro insieme queste crisi hanno depresso l'affluenza alle urne e hanno influenzato il regolare svolgimento delle elezioni. In Sudan il conflitto è in aumento. La guerra civile in Darfur, che è iniziata fin dal 2003, quindi vent'anni fa, ha causato migliaia di morti e milioni di sfollati. Il Sudan ha anche affrontato una guerra civile nel sud del paese, che ha portato alla secessione del Sud Sudan nel 2011. Tuttavia, anche dopo la separazione del Sud Sudan, il Sudan ha continuato a confrontarsi con altri conflitti interni. Attualmente il paese sta attraversando un periodo di transizione politica dopo la caduta del presidente Omar al-Bashir nel 2019. Continua la lotta per il potere tra i militari e le forze civili. L'epicentro della violenza si è spostato dal Darfur a Khartoum. Nella Repubblica Democratica del Congo, la violenza politica ha costretto al rinvio delle elezioni, come per il voto del 2018 una seconda volta. Il conflitto nell'est del paese ha subito un'altra violenta escalation, quando il Movimento 23 marzo, sostenuto dalla Rwanda, ha lanciato una nuova offensiva contro le forze congolesi e delle Nazioni Unite nel nord Kivu. Anche in sommaria vi una crescita della violenza politica. Nel 1991, quindi trent'anni fa, la caduta del regime di Siad Barre ha portato ad un vuoto di potere e ad una guerra civile tra i cosiddetti signori della guerra locali. Il paese sta affrontando la minaccia del gruppo militante islamista al-Shabaab, che ha preso il controllo di parti di territorio somolo consistenti. La situazione è stata aggravata dalla mancanza di un governo centrale stabile e legittimo nel paese. Nel 2012 l'esercito somalo, sostenuto dalle forze dell'Unione Africana, è riuscito a scacciare al-Shabaab da Mogadiscio, la capitale del paese. Tuttavia, il gruppo continua a perpetrare attacchi terroristici in diversi parti del paese. Il governo somalo, attualmente riconosciuto a livello internazionale, è impegnato nella ricostruzione e nel rafforzamento delle istituzioni governative e della sicurezza. nonostante ciò, la situazione in Somalia resta precaria e il paese ha ancora bisogno di assistenza internazionale per risolvere le sfide che deve affrontare. Il Kenya ha affrontato la minaccia del terrorismo internazionale, in particolare dal gruppo islamico al-Shabaab, la sezione somala di questo gruppo islamista, e ha perpetrato diversi attacchi terroristici nel paese, tra cui l'attentato del Westgate Maldi Nairobi nel 2013. Oggi il problema si sposta sulle cosiddette milizie pastorali, che sono un problema in diverse parti del Kenya, in particolare nelle regioni settentrionali del paese. Queste milizie sono composte principalmente da pastori nomadi che sono coinvolti in conflitti con agricoltori sedentari sulla proprietà della terra e sull'accesso alle risorse idriche. Passiamo adesso al Centro America. In Colombia, colloqui di pace, ma anche peggioramento della violenza, ma soprattutto un panorama di conflitti profondamente frammentato. Si era verificata una tregua nel conflitto tra il governo nazionale e la miriade di gruppi armati attivi nel paese, ma questo non ha portato ad una pace duratura. Le uccisioni di leader sociali e politici sono continuate nel 2022, quando il paese ha raggiunto nuovi livelli record di violenza contro i civili. L'ex combattente ribelle Gustavo Petro, insediato come presidente nell'agosto del 2002, ha annunciato una sospensione delle operazioni militari, sebbene la sua piena attuazione rimanga incerta. Haiti. Qui continua ad affrontarsi la situazione di un vuoto politico, di una situazione di sicurezza in rapido deterioramento. Il primo ministro, Ariel Henry, ha governato per decreto dall'assessinio del presidente Jovenel Moise nel 2021, mentre i mandati di tutti gli organi democraticamente eletti nel paese sono già scaduti. Le bande hanno approfittato dell'instabilità, prendendo il controllo di aree strategiche e assicurandosi ulteriori fonti di reddito. L'uscita dalla crisi politica rimane una prospettiva ancora lontana. Tra le richieste per il dispiegamento di una forza armata internazionale per ristabilire l'ordine e i tentativi di lottare per il controllo della transizione. E concludiamo con il Messico, dove il cartello di Gialisco Nuova Generazione sta prendendo piede. Si tratta di un gruppo criminale messicano emerso come gruppo scissionista nel millennio Karner, uno degli alleati del cartello di Sinaloa, dopo che la cattura del suo leader nel 2009 ha portato a divisioni interne. Inizialmente il gruppo operava come braccio armato del cartello di Sinaloa. Come parte di questa alleanza si è impegnato in una guerra mortale contro i cosiddetti di Los Zetas, nello stato di Veracruz, dove il gruppo si è distinto per l'uso della violenza e il convolgimento in numerosi massacri. Buon tempo di pace da Nat Russo. Ai prossimi aggiornamenti sui conflitti nel mondo. Arrivederci.